18.951 è il numero delle famiglie bassanesi e per loro arriva lo sportello dedicato, uno spazio fisico a cui le famiglie potranno accedere per attingere informazioni relative ai servizi sociali, alla scuola, alla formazione e in generale alle opportunità come quelle di impiego, alle varie iniziative, alle risorse presenti sul territorio. Lo sportello sarà anche uno spazio di ascolto del bisogno espresso dalle famiglie ma anche di orientamento verso i servizi del territorio più appropriati erogati da soggetti pubblici e privati in grado di offrire sostegno alla famiglia.